Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Pedone investito da un'auto a Pesero, ora è ricoverato in gravissime condizioni Addio a Giorgio Spinaci, storico concessionario Piaggio di Fano, fondò negli anni 50 il Vespa Club Daino passeggia tra i binari, treni rallentati tra Pesero e Fano Il digestore si farà e sarà operativo nel 2022, costerà 27 milioni di euro e smaltirà i rifiuti organici della provincia A Fano 2 i residenti protestano per l'incuria in cui inversa Piazza Capuana, un tempo grazioso salotto di tutto il quartiere Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del telegiornale Allora, c'è stato un investimento, un pedone che è stato investito a Pesero, ora è ricoverato in gravissime condizioni Un 84enne residente a Pesero in via Lubiana, Nazareno Renzi, versa in gravi condizioni L'ospedale regionale Torrette di Ancona, trasportato d'urgenza dal 118 dopo essere stato investito in via del 900 Attorno alle 19.30 di ieri, mentre si trovava sulle strisce pedonali da una Fiat 600 guidata da un residente del posto di 62 anni Con a bordo l'anziana madre L'ottatanque a trenne per l'urto violento è stato sbalzato sul cofano dell'auto E dopo aver battuto violentemente il capo contro il parabrezza, sfondandolo, è caduto di peso sull'asfalto Una ventina di metri dopo il punto di impatto trascinato dalla 600 Il conducente avrebbe dichiarato di non aver visto il pedone attraversare la strada L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 che è stato allertato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena E che valutate le condizioni dell'uomo lo hanno trasportato in codice rosso a Dancona Sembrerebbe, stando alle dichiarazioni della figlia dell'investito a corsa sul luogo dell'incidente Che l'anziano, mentre si trovava all'interno dell'ambulanza, fosse cosciente Sul posto, oltre al personale sanitario, anche due pattuglie della sezione infortunistica della Municipale di Pesaro per i rilievi di legge C'è stato un morto oggi pomeriggio a Pole di Acqualagna Il bilancio è di una persona morta, un uomo di 88 anni appunto di Acqualagna e un ferito È un bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17.30 Lungo la statale 257 a Pecchiese a Pole di Acqualagna L'auto, una Fiat Panda condotta dall'88enne per motivi ancora in fase di accertamento Si è scontrata con una lancia Y nel cui conducente è rimasto ferito La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico ed è stato deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni sul posto Presenti anche squadre di ANAS, Forza dell'Ordine e Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità E per effettuare i rilievi del caso anche al fine di ripristinare poi la normale circolazione nel più breve tempo possibile Ed è scomparso all'età di 87 anni Giorgio Spinacci Primo storico rivenditore di Vespa della città di Fano Spinacci da tempo malato è stato il socio fondatore del Vespa Club Fano 1949 E' del club Lucio Ricci ed ha ereditato dal babbo Cesare la concessionaria Piaggio In cui ha lavorato con passione ed energia fino alla meritata pensione Prima della malattia che lo ha costretto a ritirarsi dalla vita associativa del Vespa Club da circa tre anni Era sempre in prima linea ai raduni e agli appuntamenti degli appassionati delle due ruote Con la sua proverbiale verve e simpatia L'ultimo ad ottobre nel 2016 in occasione di una mostra proprio dedicata all'associazione da lui fondata Anche il sindaco di Fano Massimo Seri lo ha ricordato oggi con affetto E ha detto per noi ragazzi degli anni 80 la concessionaria di Giorgio Spinacci era una tappa fissa Io stesso ho acquistato, ha detto il sindaco, da lui una Vespa ancora perfettamente funzionante Ad ogni raduno o ricorrenza in cui ci si incontrava, prosegue il sindaco Seri Riusciva a trasmettere sempre una grande passione per questo mezzo di trasporto Che ha fatto la storia della nostra nazione Alla moglie e alla figlia le più sincere condoglianze da parte del sindaco di tutta l'amministrazione comunale Il funerale di Giorgio Spinacci si terrà giovedì mattina alle ore 10 nella chiesa di San Marco in Sassonia Ancora cronaca, i carabinieri di Gabice e quelli di Pesaro sono intervenuti ieri pomeriggio Per una rapina avvenuta ai danni di un gestore di distributore di carburante Il quale poco dopo l'ora di chiusura, mentre già si trovava all'interno della sua automobile In pieno traffico cittadino, è stato affiancato da una moto con a bordo due individui con il casco integrale Pochi istanti il passeggero della motocicletta con un altro casco Ha sfondato il finestrino della portiera anteriore destra E dopo averlo colpito ha afferrato la borsa con l'ingente incasso della giornata E poi si sono dileguati Dopo l'azione fulminia i due rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce tra i vicoli del centro di Gabice Adesso andiamo a vedere queste immagini Si tratta di un cervo, di un daino Che ha fatto rallentare, che passeggiando lungo i binari Ha fatto rallentare tutti i treni in circolazione Fino ai 30 km orari, questa mattina tra Pesaro e Fano Dopo essere andato su e giù si è spostato poi lungo la strada Arrivando fino a Via Lamarca a Pesaro Poi è stato tallonato dai carabinieri, dalla polizia, dal personale del centro rapaci animali selvatici Che lo hanno indirizzato lungo un percorso ecologico Finché si è allontanato tra i boschi La scorribanda del cervo lungo le rotaie è durata circa una trentina di minuti Durante i quali i conducenti dei convogli in transito hanno dovuto usare fischi e segnalatori sonori Ecco, vedete le immagini a cui si riferisce questo episodio Cambiamo pagina, cambiamo argomento E sulle note vicende del Nolfi, ex Carducci Parliamo quindi di istituti scolastici Il Movimento 5 Stelle di Fano ha fatto accesso agli atti Soprattutto per fare chiarezza E sono diverse le incongruenze che hanno riscontrato È emerso che prima delle ultime verifiche che sono state fatte quest'estate Le ultime analisi erano state fatte ben nove anni fa, nel 2010 E quindi dopo il terremoto del 2016 c'erano stati solamente dei sopralluoghi con dei controlli a vista E le ultime analisi vere e proprie sono state fatte nove anni fa In cui diciamo che il tecnico autore di questi documenti Raccomandava ulteriori approfondimenti sui materiali e comunque dei sopralluoghi in loco per vederci meglio La provincia purtroppo in nove anni questa cosa non l'ha mai fatta Finché appunto non sono intervenute le ultime verifiche di quest'estate Quindi lo slittamento sotto la soglia del quindicesimo posto è dovuto anche a questo? Sì, purtroppo questo ovviamente ha comportato dei ritardi Ma soprattutto ha comportato il fatto che gli interventi per ex Carducci e Nolfi Non sono stati ricompresi nell'ambito della programmazione triennale dell'edilizia scolastica Per il Raffaello la provincia ha provveduto ad acquisire addirittura un immobile di 700 mila euro Qui ancora zero carbonella, come mai? Sì, ancora purtroppo non è stato da parte loro fissato un incontro Quindi ovviamente sollecitiamo affinché questo incontro avvenga Soprattutto noi abbiamo delle proposte da fare prima a breve termine Per ridurre assolutamente la frammentazione attuale del liceo Che è veramente disseminato in vari edifici della città E questo è veramente un duro colpo a un'istituzione che sta vivendo una fase drammatica A lungo termine occorre scegliere cosa fare Cioè o ristrutturare porzioni di edifici di competenza comunale già esistenti Oppure, ed è la soluzione per la quale noi propendiamo Costruire ex novo edifici laddove appunto sorgono ora Nuove edifici con tutte le norme di sicurezza antisismiche E quindi insomma con tutti i crismi ad alto risparmio energetico Con efficientamento e così via In ultima analisi sollecitiamo insomma la formazione di un tavolo di lavoro permanente Che coinvolga provincia, comune, dirigenze scolastiche e ufficio scolastico provinciale Ecco, sull'incidente avvenuto lungo la Pecchiese C'è un aggiornamento che è arrivato adesso La strada provinciale, la strada statale 257 è stata riaperta al traffico Era stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire A proposito appunto dopo questo incidente mortale Nel quale ha perso la vita un 88enne Il digestore anaerobico si farà e si farà a Fano L'investimento è di 27 milioni di euro Ed entrerà in funzione nel 2022 Questo digestore anaerobico servirà per smaltire tutti i rifiuti organici della provincia di Pesaro e Urbino I dettagli nel prossimo servizio Un investimento di circa 27 milioni di euro È il costo del futuro digestore anaerobico Impianto da circa 60.000 tonnellate per lo smantellamento dell'organico Che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2022 L'impianto sarà a servizio dei comuni della provincia Da realizzare attraverso una società con marche multiservizi Nessuna comunicazione ufficiale sul posizionamento del digestore Che a quanto pare spetta al consiglio comunale dare il via libero o meno al progetto Anche se il sindaco sostiene che la città di Fano Non deve passare in secondo piano rispetto agli altri comuni della provincia Per l'installazione dell'impianto Secondo il presidente di Aset Il digestore servirà a produrre biogas Elemento importante sul fattore economia dei trasporti E anidride carbonica utilizzabile dagli ospedali E il composto finale può essere utile anche in agricoltura Sostituendo i concimi azotati Secondo Reginelli con lo scarto dell'umido Si possono ottenere materie prime sicure con un abbattimento dei batteri Non per ultimo l'impianto recherà secondo gli amministratori Anche dei benefici economici Con incentivi previsti per i comuni che li ospitano Ovvero 60.000 tonnellate Porteranno nelle casse comunali 300.000 euro l'anno Pari a 6 milioni di euro per 20 anni L'argomento del progetto del digestore Ha scaturito diversi dibattiti tra le forze politiche Secondo la consigliera Tarsi di Fano, città ideale Sugli incentivi non c'è garanzia normativa Mentre per i 5 Stelle hanno chiesto se non fosse adatto Un impianto più piccolo delle 60.000 tonnellate Il consigliere comunale della Lega ha ricordato Lo studio di fattibilità nel quale sono stati individuati Tre zone per l'eventuale installazione Ovvero la discarica di Monteschiantello, Falcineto e Bellocchi Il dibattito sull'argomento è attivo anche fuori dalle aule del Consiglio Tre cittadini interrogati sui vantaggi o meno di un ipotetico impianto Ci mancherebbe altro che non si facesse Secondo lei qual è la zona più appropriata per installare questo? Questo riguarda un pochino il comune Ma le zone sono tante Ma è chiaro che devono essere d'accordo Chi ci abita vicino Per me è obsoleto semplicemente Perché è roba che noi Io facevo quel mestiere lì Lo vendevamo 30 anni fa Figurarsi adesso che tecnica è È una tecnica già allora Dato dei problemi enormi Perché si riempie di porcherie Che dopo ogni tanto bisogna svuotarli E diventa un'impresa svuotarli Per ripulire le parti interne Che non sono organiche E quindi non digeriscono Non producono il gas biologico Io avrei molta prudenza a installarlo A fare un investimento del genere È una cosa che ci vuole Perché per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti È un problema in Italia Secondo lei qual è la zona più appropriata? Penso che sia Falcinetto Perché è una zona dove c'è campagna E non è proprio vicina alla città Dipende da cosa ci buttano gli distributori Anche la zona dove verrà installata Secondo lei qual è quella più opportuna? Ci vuole quella dove c'è meno abitazioni Un pochettino più isolata Scegliere le zone dove non danneggia niente Non danneggia né le abitazioni Né se ci sono scuole Se ci sono negozi o complessi di supermercati Capito? È tutto lì io penso che sia Il servizio era di Francesco Salvago E adesso parliamo invece di influenza L'influenza di quest'anno Stanno per arrivare ai medici di Fano Peser Urbino 65.000 dosi di vaccino Al via la campagna vaccinale anti-influenzale 2019-2020 Su tutto il territorio nazionale Pochi giorni e il vaccino già presente nelle farmacie Verrà consegnato anche a pediatri e medici di base La popolazione a cui è rivolto Per cui è consigliata una copertura È la medesima di ogni anno Categorie a rischio Anziani sopra i 65 anni E donne in gravidanza Una novità che ho già comunicato ai medici di medicina generale Anche ai pediatri È che utilizzeremo due principali vaccini Due fondamentali vaccini Di comprovata efficacia Senza nulla tollerare gli altri Ma si parla di un vaccino Che va a coprire i due struttotipi più comuni Di virus di tipo A e di tipo B Ed è per questo che è chiamato vaccino tetravalente Il vaccino trivalente adiuvato È un vaccino che può dare uno stimolo immunogeno E quindi una risposta immunitaria Laddove questa si può ritenere deficitaria Può essere utilizzato anche nei soggetti Che sono affletti da pluripatologie Siamo riusciti ad avere un quantitativo Di circa 5.000 dosi in più E parliamo di circa 67.000 dosi complessive Di vaccino destinati all'area vasta 1 La distribuzione avverrà il 6 di novembre Quindi mercoledì 6 Tutti i medici di medicina generale Nei tre distretti fanno peso rubino Avranno a disposizione il vaccino Questo cosa significa? Che siccome si sta parlando In questi giorni di quando parte la campagna antifluenzale Che compatibilmente con gli impegni Ambulatoriali In teoria già dal 7-8 di novembre I medici potranno fare Il vaccino antifluenzale Dei loro pazienti Secondo le stime dei casi segnalati Al distretto di prevenzione Saranno migliaia le persone Che saranno messe a letto dall'influenza Che arriverà come picco Tra la fine di gennaio e i primi di febbraio Quali sono le previsioni? Che tipo di influenza avremo? E quante persone potrebbero essere interessate Da questa evenienza? Dunque non è che si prevede un andamento particolarmente Preoccupante o diverso rispetto all'anno precedente Si prevede che il virus Che possa ancora dare problemi O comunque che possa maggiormente circolare Ancora il virus H1N1 Questo indubbiamente è un virus che anche nel periodo al di fuori Del classico periodo invernale Nei soggetti che dicevamo prima Vale a dire affetti da patologie Di età particolarmente avanzata Determina purtroppo conseguenze importanti A livello respiratorio E quindi si dimostra un virus molto aggressivo Un tempo Piazza Capuana Nel quartiere di Fano 2 Era considerato un piccolo salotto Nel quale i residenti si ritrovavano Per passare anche dei momenti insieme Ora invece guardate come è ridotta questa piazzetta E' stato il centro di aggregazione del quartiere Nelle sere d'estate ci si ritrovava al fresco delle piante Seduti sui moretti o sulle panchine Il rumore dell'acqua della fontana Poi rendeva l'atmosfera piacevole e conviviale Le attività che si affacciavano sulla piazzetta Rendevano le serate animate I bambini giocavano in sicurezza Sotto gli occhi attenti delle madri E gli anziani invece dialogavano con loro E tra di loro A vederla ora Piazza Capuana Il fulcro del quartiere di Fano 2 Risulta difficile immaginarsi queste atmosfere Descritteci proprio da coloro Che per primi una ventina di anni fa Iniziarono a popolare il quartiere Ora l'incuria e il degrado Regnano sovrani Erbacce, selciato rotto Fanno da sfondo a chi passa frettolosamente per di qua Quasi a voler passar via oltre Il più presto possibile Anche il bar poi ha ceduto le armi e chiuso i battenti La fontana è ridotta male Oltre a perdere pezzi di mattonelle È un pericoloso passatempo per i bambini Che si possono finire dentro Cadendo e facendosi male Essendo le pareti molto scivolose e pendenti E dell'acqua non c'è traccia Ma dell'erba infestante invece Ce n'è in abbondanza Eppure ci dice un signore in bicicletta Non ci vorrebbe molto Piange il cuore a vederla ridotta così Per altri questa fotografia è una vera pugnalata E un vero schiaffo al decoro urbano Per questo posto dimenticato da chi invece dovrebbe prendersene cura Io ho provato molte volte a chiamare Ma nessuno si è fatto mai vedere E così da tanto? Da molto E i bambini è anche pericolosi Tra virgolette Per voi che ci abitate insomma vorreste? O sistemarla oppure toglierla del tutto Che ne so riempirla di terra Mettere dei fioi Ma poi non viene curata quindi Anche un po' tutta la piazza Poi la piazza è proprio uno schifo L'avevano risistemata una volta Ma poi l'hanno lasciata di nuovo abbandonata Che ne pensa della piazza? O abbandonata a se stessa? Sarebbe opportuno metterci i lampioni a led come i passeggi La fontana Trattarla un pochino meglio Educare un pochino meglio questi ragazzi che sono qui Raccomandarli di tenere pulito Poi ci sarebbero quei giochi di là Questi qui sono fatti adesso Quelli di nell'altro spazio Sono completamente abbandonati La piazzetta ha visto tempi migliori? Molto migliori C'è i bambini che giocavano tutti lì Nella piscina si divertivano Adesso è tutto rotto E oltre a quello anche il parco Perché il parco non è male Però ci avrebbe qualche parchino in più Per le donne che si lamentano sempre Un po' più di decoro Un po' più di decoro andrebbe bene Qui nella piazzetta specialmente davanti alla chiesa Però vediamo Vi ricordiamo invece in chiusura di Telegiornale Che l'ospite della prossima puntata di Primo Cittadino In onda il 28 di ottobre Sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri E questi sono i numeri di riferimento Tra poco la pubblicità E poi una nuova puntata Di Che Tempo Farà Con i comici del San Costanzo Show Grazie per essere stati con noi Ci vediamo domani mattina in diretta alle 7 Con la Rassegna Stampa Grazie a tutti